Ti dico una cosa, secondo il mio parere personale, adesso che siamo qua io e te che lui non ci sente, far mille rotti chilometri è già stato pesante e tu lo sai perché eravamo poi con lui, però farne altre mille, perché ho capito che lui vuol farlo per dare la possibilità agli altri, cioè trainare un gruppo come lui? Sono due discorsi diversi, lui ha una cosa che convolge gli altri e lo farà e lo fa quello lì, lui ha espresso il desiderio di partire da Somma, lui si sfida giorno per giorno, ogni cosa è una meta per lui, Certo! Allora, se lui adesso, che vado a prendere il lavoro, arriva a casa e ha già un qualcosa per domani, lui, che può essere piccola, grossa, tanto, lui ha già qualcosa per domani, che poi la svolge in collaborazione con me o senza di me, ha già un qualcosa, capirai senza di noi, solo il pensiero mi sento male, ecco! Quello che noi dall'inizio abbiamo detto non vogliamo un figlio sul divano, questo qui che abbiamo seminato, oggi questo è il risultato, lo lascia ben che venga, oh! E che permetti che io mi senta un po' preoccupata? Ma non lo metti in dubbio, per tutto quello che deve... Ma anch'io sono preoccupato, anche quando pedalo dietro di lui, Cosa credi? Che io sono lì che fischietto? No, no! Io, ti ho già detto altre volte, che due occhi sono avanti, due occhi sono indietro e tante altre cose, ecco! Però sai cosa c'è? Tu la prendi in una maniera e io la prendo in un'altra!